Alcuni cittadini di Santa Maria di Licodia armati di vanga, picconi, secchi e sacchi di immondizia hanno cercato nelle scorse giornate di restituire decoro al tratto dell'ex linea ferrata della ferrovia circomettennea compreso tra via Bellini e via Lanza, una zona spesso caratterizzata da rifiuti abbandonati dagli sporcaccioni di turno che è stata riqualificata attraverso la pulizia straordinaria di questo tratto e la posa di diverse piante che hanno reso la zona più vivibile un'area lasciata spesso all'incuria, curata solamente dagli abitanti della zona che periodicamente si attivano per prendersene cura, che periodicamente si attivano per bonificarla Da quando io sono venuto ad abitare qui vicino alla ferrovia, circa 20 anni, mi sono preso cura di questo locale guarda qua anche che c'era la ferrovia circomettennea che passava, però sembra pulito e abbiamo fatto del nostro meglio per avere un decoro perché visto che il paese vive in un periodo che la gente a volte assozzona, per dirla così francamente ora da quanto tempo non c'è più la ferrovia, io ho preso la direttiva con noi e gli altri per piantare queste piante affinché c'è un decoro a Santa Maria delle Godie perché se ognuno farebbe la sua parte, avessimo un po' di verde e fa piacere a tutti e così vogliamo fare ognuno la nostra parte per mantenere pulito l'ambiente e insomma dare anche all'occhio sociale, avere qualcosa di bello il perché è per creare un po' di decoro urbano innanzitutto e poi secondariamente per non far sporcare perché si attenzione il fatto che si tiene pulito, si mantiene pulito sempre l'occhio, c'è sempre quello che butta la lattina, la carta, si va raccogliendo non si riduce a discarica, questo qua è il motivo noi abbiamo piantato degli alberelli in modo che abbiamo l'attenzione appunto per fare attenzionare alla gente che qua è un luogo curato e quindi non c'è motivo di sporcarlo grazie a tutti Grazie.